Quando si viaggia per sentieri in genere la necessità di una bussola non la si ha. Una bussola diventa uno strumento utile, molto utile, abbinata alla cartina nel momento in cui si decide di appunto di abbandonare il sentiero o in condizioni di scarsa visibilità come ad esempio può essere il viaggiare di notte o in condizioni di nebbia in alta montagna. Vediamo adesso nel dettaglio come è fatta una bussola, in particolare come è fatta la mia bussola. Ok allora questa è la mia bussola, è una classica bussola da carteggio che è diversa da una bussola da traguardo, che in genere le bussole da traguardo si intendono quelle classiche bussole militari per intenderci. Preferisco questa solo per un discorso di peso, è molto più leggera rispetto a quella militare. Ok vediamo com'è fatta. Le componenti principali, adesso non vi sto a descrivere tutta la bussola, vi dico le componenti principali sono questa linea che viene chiamata linea direzionale e in genere indica la nostra direzione. Una ghiera graduata, questa, che indica i gradi e quindi i valori di azimuth. Un ago magnetico con questa parte rossa che indica il nord e infine sotto, sulla base della ghiera, è presente diciamo questo reticolo con questa freccia che in molte bussola da carteggio indicate con una freccia. Invece io diciamo la punta della freccia, al posto della punta della freccia, ho questi due pallini verdi. Questa freccia che in genere si trova qui sulla base della ghiera viene chiamata freccia di orientamento. Questa inoltre ha anche una lente di ingrandimento, dei fori diciamo preforati, in forma triangolare, in forma circolare, per fare dei segni sulla carta. Quindi praticamente l'agimuth non è altro che una misura angolare rispetto al nord magnetico, quindi è l'ampiezza dell'angolo compreso tra il nord, indicato dalla bussola, e il mio obiettivo, che può essere di 45, 90 gradi, 180, 270, fino a 360 gradi, che poi indica di nuovo il nord. Quindi chiarito questo concetto andiamo a provare a calcolare l'azimuth di un possibile obiettivo. Ok, se ad esempio decido di calcolare l'azimuth del mio giubbottino, quello azzurro che ho messo lì, dovrò indirizzare la linea direzionale, quindi tutta la bussola verso il mio obiettivo, in questo caso il mio giacchino, mantenerla sempre orizzontale, la bussola in modo che l'ago magnetico possa ruotare, in questo caso già si è ruotato, si è posizionato verso il nord. Dopo aver puntato, quindi traguardato il mio obiettivo, andrò a ruotare la ghiera fino a quando la freccia di orientamento, che ve lo mostro, alzo la bussola per mostrarvelo, ma l'ha fatto sempre con la bussola orizzontale, la freccia di orientamento, che abbiamo detto che è questa, la mia bussola è questa, con questi due pallini verdi, fino a quando la freccia di orientamento non si va a sovrapporre al nord magnetico del lago magnetico. Quindi in questa maniera qua, adesso un po' si è girato l'ago perché ho alzato la bussola, però per rendervi l'idea, quindi dopo aver traguardato il nostro obiettivo, mettiamo la bussola in maniera orizzontale in modo che l'ago possa ruotare e indicarci il nord magnetico, infine ruotiamo la ghiera finché la freccia di orientamento non si va a sovrapporre al lago magnetico, al nord del lago magnetico, in questa maniera qui. Dopodiché, alzo la bussola per farvelo leggere, ma ripeto, va fatto sempre con la bussola in maniera orizzontale, andiamo a leggere direttamente sulla bussola i valori del nostro azimuth, che in questo caso è di 17 gradi, quindi il giubbino si trova a un azimuth di 17 gradi. Spero si riesca a vedere, ecco adesso forse ho messo a fuoco, come potete vedere qui c'è la linea di riferimento e sono sì in circa 17-18 gradi. E ho 3 ore 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 Grazie a tutti